Salve a tutti ragazzi, ecco cosa è successo ieri 22 luglio 2022 sul nostro pianeta. Guardate qua, tornato a Shongyu, guardate lì ragazzi, veramente siamo forse alla fine, l'apocalisse in corso, non lo so ragazzi, ma guardate qui le scene sono raccapriccianti, veramente accade di tutto, forse la fine dei tempi non è tanto lontana, guardate qua strane nuvole di latte ne c'è sopra l'Ohio, Stati Uniti, guardate qua, non lo so ragazzi se è normale oppure no, sinceramente credo di no, tempesta di sabbia ha colpito ancora la Cina, quindi non si capisce tornato, tornati di sabbia, non si capisce più nulla, qui siamo a Madrid, da Madrid a Saragossa il quartiere è diventato un pezzo d'inferno, guardate qua ragazzi siamo veramente alla fine, sono morti le pesci e nessuno sa il motivo, l'apocalisse è vicino.